Credo che questa quundicesima edizione del premio Cimitile sia rappresentativa di una scelta che la Regione ha voluto fare in questi anni, ma che vuole rafforzare questa competizione tra scrittori contemporanei in uno scenario unico a livello europeo, le basiliche paleocristiane di Cimitile e unitamente a questa manifestazione c'è anche il premio letterario, la letteratura incontra il territorio, un momento di esaltazione del libro, della lettura, nel stesso tempo anche di un territorio ancora poco conosciuto. Il 2010 rappresenta il quindicesimo anno di un'ormai lunga e prestigiosa storia del premio Cimitile, direi 15 anni di successi, di formazione di informazioni, di messaggi positivi, di valori trasmessi. La fondazione premio Cimitile con i suoi autorevoli fondatori, la Regione Campania, la provincia di Napoli, il Comune di Cimitile e l'Associazione Obiettivo Terzo Millennio, continua a diffondere il proprio credo, ossia lo sviluppo di un progetto culturale di respiro nazionale ed internazionale.